E' una guerra ideologica, cioè noi onorato per l'imbarco di tutti i marittimi italiani come abbiamo, abbiamo 4.000 marittimi tutti italiani, contro una visione del Presidente della Confidarma, Manuel Grimaldi, che spinge a avere anche sulle rotte italiane marittimi extracomunitari pagati a stipendi veramente ridicoli. Vincenzo Onorato punta la prua contro le compagnie concorrenti. Il patron di Mobi e Tirrenia annuncia una battaglia senza tregua per impedire l'approvazione della legge che consentirebbe di imbarcare marittimi extracomunitari e che rischia di provocare licenziamento di 20.000 lavoratori italiani. Dopo gli anni del carro traghetti e della crisi del turismo, Tirrenia e Mobi annunciano maxi sconti per i viaggi verso la Sardegna. Noi faremo come Tirrenia e Mobi è un abbassamento radicale delle tariffe, sostenuto dal fatto che il petrolio fortunatamente adesso è in abbassamento. Avete annunciato tariffe più basse per i turisti del 40%? Sì, confermiamo. Da 5 mesi onorato hai patron anche di Tirrenia, come intende migliorarla? Il primo passo, quello più palese, quello più evidente sono le flat rate, cioè tariffe bassissime per i residenti e i nati in Sardegna. È ridicolo che si spenda 14 euro per andare da Olbia a Civitavecchia e ci siano poi 10, 12, 13 euro di tasse portuali.